Il PD spinge anche a livello nazionale per la fusione dei comuni e in Toscana le regole cambiano. Il Consiglio regionale ha dato il via libera con i soli voti del Partito Democratico, contrarie tutte le forze di opposizione, alla risoluzione presentata dal consigliere Dem Antonio Mazzeo e sottoscritta anche dai colleghi di gruppo Leonardo Marras e Lucia De Robertis. La risoluzione aumenta gli incentivi per i comuni che si fondono e allarga le maglie del referendum consultivo dei cittadini. Prevede infatti che la regione approvi la fusione quando in occasione del referendum sia raggiunta una maggioranza di sì superiore ai due terzi dei votanti dell'intera comunità interessata. Oppure, qualora questa maggioranza non venga raggiunta, solo in presenza della maggioranza favorevole in ciascuno dei comuni consultati. In una fase in cui c'è l'abolizione delle province, la riforma costituzionale in atto, noi diciamo di proseguire con grande forza il percorso di costruire macro-regioni, di andare a costruire ambiti ottimali più grandi e di costruire comuni di dimensioni più grandi per poter competere in Europa. Siamo in una fase in cui abbiamo necessità di attirare investimenti, di dare ai cittadini la possibilità di pagare meno tasse. Per fare questo servono amministrazioni locali più efficienti. Nella risoluzione si ribadisce anche la necessità di riformare il Consiglio delle Autonomie Locali e di superare gli attuali organismi di rappresentanza di comuni e province, come UPI, UNCEM e Lega Autonomie, orientando tutte le risorse verso l'Anci.